Si pari calati, un silenzio assordante e migliaia di lavoratori di nuovo a casa, attori, registi, cantanti, produttori, maestranze. Il mondo dello spettacolo è ancora una volta colpito dalle norme anti-covid. Cinema e teatri rimarranno chiusi fino al prossimo 24 novembre e in tanti hanno già annunciato che venerdì mattina scenderanno nelle piazze di diverse città italiane, tra le quali Ancona, per manifestare la loro contrarietà, persone che avevano già resistito per mesi con pochi aiuti e che poi si erano rimboccate le maniche per ripartire, fino a domenica quando è arrivata l'ennesima doccia gelata. Un grande dolore perché in questi giorni eravamo tutti impegnati a recuperare lo spettacolo, l'ultimo spettacolo di prosa in cartellone 19-2020 e infatti anche gli abbonati hanno ricevuto tutta una lettera per poter scegliere le serate perché è una chiusura che insomma sinceramente non ci aspettavamo con questa forza pur comprendendo la situazione perché non è che non ci possiamo far carico del momento che stiamo vivendo, però ecco dentro i teatri non era mai successo nulla. Infatti nei mesi scorsi anche il Teatro della Fortuna si era adeguato alle normative, dai 570 posti si era passati a 238, termoscanner, gel per le mani e autocertificazioni da compilare all'ingresso, tutto nella massima sicurezza, tant'è che sono stati diversi gli eventi organizzati, dai convegni alle visite guidate, agli spettacoli. Non abbiamo mai mollato e nulla faremo ora, ci ha detto la Presidente della Fondazione Katia Amati, che è già al lavoro per progettare iniziative e collaborazioni. Speriamo molto in questa informazione che era questa notizia che ieri il Ministro ha dato, il Ministro Franceschini, che oggi o entro la settimana incontrerà tutti i lavoratori, le associazioni rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, perché è veramente un mondo in crisi. Immaginate cosa significa chiudere un teatro, vuol dire le maschere, gli addetti alla sicurezza, i tecnici, l'orchestra, il coro, tutti a casa. E questo insomma ci mette in tanta nostalgia di un mondo che volevamo vedere riaperto alla grande, ma soprattutto ci preoccupa per tutto l'indotto economico, le famiglie che sono coinvolte e tutto. Comunque, ripeto, stiamo cercando momenti anche alternativi per capire un po' come non far perdere mai al nostro pubblico, a tutti i cittadini, questo legame col teatro, con questa cosa che, come diciamo sempre, ci fa riempire l'anima e ci rende più felici, ci fa pensare di più, ci accompagna anche nei momenti difficili, lo abbiamo dimostrato durante le chiusure totali.